Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque. Voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte, o al canto del gallo, o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate. Oggi inizia l'Avvento, il tempo liturgico che ci prepara al Natale. invitandoci ad alzare lo sguardo e ad aprire il cuore per accogliere Gesù. In Avento non viviamo solo la tessa del Natale, veniamo invitati anche a risvegliare la tessa del ritorno glorioso di Cristo quando alla fine dei tempi tornerà, preparandoci all'incontro finale con Lui, con scelte coerente e coraggiose. Ricordiamo il Natale, aspettiamo il ritorno glorioso di Cristo e anche il nostro incontro personale, il giorno nel quale il Signore ci chiami. In queste quattro settimane siamo chiamati a uscire da un modo di vivere rassegnato e abitudinario ed uscire alimentando speranze, alimentando sogni per un futuro nuovo. Questo tempo è opportuno per aprire il nostro cuore, per farci domande concrete su come e per chi spendiamo la nostra vita.